Scarpitti probabilmente uso una frase un po' banale, però è vera. Adesso parte un nuovo campionato, anche se i valori rimangono. Sì, sicuramente. Può sembrare una frase fatta, ma in realtà il play-off è sempre un campionato a parte. E chiaramente, soprattutto in discipline come la nostra, può soverchiare qualsiasi pronostico questa fase. È chiaro che i valori comunque ci sono, i piazzamenti nella regular season dimostrano quello che le squadre valgono, quello che può incidere sono stati di forma. In questo senso noi stiamo cercando di recuperare la migliore condizione possibile. Bisogna anche resettare il fatto che il vostro prossimo avversario, il Meta Catania, vi ha battuto proprio nell'ultima giornata. E voi lo incontrerete sabato? Assolutamente sì. Certamente questa è, a mio parere, una motivazione in più per riuscire già da sabato a dimostrare che i reali valori sono altri. Chiaramente la trasferta giù a Catania è stata particolare, anche per via delle varie assenze che abbiamo avuto, le difficoltà che ci sono state anche sul posto con infortuni e altre situazioni del genere. Però è chiaro che assolutamente siamo convinti che potremmo far valere la nostra maggiore esperienza, la nostra maggiore qualità in questo match. In questa settimana di preparazione alla gara 1, che cosa dirà ai suoi ragazzi? Alla fine noi stiamo facendo un percorso per il quale adesso arriva il momento più importante, il momento più bello per tutti quanti. Non serve nemmeno che io dica a giocatori che sono abituati a vivere questo tipo di fase come debbano viverla. È chiaro che da parte di tutti quanti c'è grande voglia di riscatto perché l'ultimo periodo non è stato particolarmente brillante, ma nemmeno troppo fortunato. E quindi anche a fronte di buone prestazioni che abbiamo fatto sia in Coppa sia con il Pesaro, non siamo riusciti a raccogliere quanto meritavamo. Abbiamo assolutamente tanta voglia di dimostrarlo da subito. Prima parlava di rientri. A proposito, il portierone Mammarella si parla sempre di un rientro suo imminente. Ci sarà? Stefano sta lavorando come un pazzo per essere pronto già da sabato. Noi lo speriamo chiaramente, l'ho visto in questa settimana abbastanza pronto, quindi ci teniamo questi ultimi giorni per delle valutazioni, però è chiaro che il suo rientro può essere una spinta ulteriore per tutti quanti.